L'amministrazione comunale di Sassano, guidata dalla sindaco Domenico Rubino, ha attuato importanti e sostanziali misure sulla Tari, tassa sui rifiuti, per l'annualità 2021. A beneficio della collettività, fanno sapere dall'amministrazione comunale, sono state poste in essere la riduzione del 50% della parte fissa della tariffa per tutte le utenze domestiche, l'esenzione totale per diverse categorie commerciali e la diminuzione del 50% per altre categorie commerciali. In questo periodo di crisi socio-economica ci è sembrato, spiega il sindaco Domenico Rubino, quanto mai opportuno cercare soluzioni mirate a sgravi fiscali per la nostra comunità. La crisi colpisce sia i cittadini sia le attività produttive e commerciali, perciò cerchiamo di sostenere in ogni modo l'economia sassanese. Anche nei prossimi mesi, continua Rubino, porremo al centro della nostra azione politica ed amministrativa il cittadino utente e contribuente, in un contesto storico caratterizzato da condizioni di particolare disagio socio-economico a seguito delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria. Nello specifico, le agevolazioni verteranno sulla riduzione del 50% della parte fissa della tariffa sui rifiuti per tutte le utenze domestiche, l'esenzione totale per diverse categorie commerciali, quali attività artigianali come barbieri, parrocchieri, estetiste, esenzione totale anche per ristoranti, trattorie, pub, pizzerie, bar, rosticcerie, negozi di piante e fiori. Per tutte le altre categorie commerciali, la tassa sui rifiuti verrà ridotta del 50%. Per tutte le altre categorie commerciali, la tassa sui rifiuti per i 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 rifi